Buon pomeriggio, volevo ringraziare la senatrice Cecilia Delia che ci ha dato la possibilità di essere qui oggi in questa sala e in questo luogo molto impegnativo sapendo che per esempio il primo invito che facciamo come conferenza nazionale dei garanti, siamo 86 in tutta Italia, chi vi parla è Samuele Ciambriello che è il garante campano dei detenuti ed è il portavoce nazionale della conferenza, stavo ringraziando la senatrice che ci ha dato questa nobile possibilità di stare in questo luogo e una delle prime cose che chiediamo alla politica è proprio questa, state per discutere di carceri, di giustizia, mentre discutete di carcere per voi vale l'invito di Calamandrei, vieni e vedi, noi ve lo ripetiamo, il consigliere regionale, il deputato, il senatore, l'euro parlamentare può entrare in carcere accompagnato anche da due persone, virgola non giornalisti, sta scritto, e diciamo no no qualche volta vogliono che la firma sia della dichiarazione, nello scritto nelle circolari, vabbè potete essere accompagnati ma andate ad ascoltare perché se parlare è un bisogno anche negli istituti diciamo costituzionali di Camera, Senato, nelle altre istituzioni locali, penso ai consigli regionali, Parlamento europeo, se parlare è un bisogno è ascoltare una virtù e un'arte, in tal senso la prima cosa che chiediamo noi come conferenza dei garanti è di essere ascoltati dal ministro della giustizia, vedete noi siamo in grado di dare dalla commissione giustizia al ministro, ai sottosegretari una fotografia in bianco e nero delle carceri, ci risulta che molte volte esponenti del governo vanno negli istituti, alcune volte per incontrare una parte degli utenti dell'istituto o solo gli agenti di polizia penitenziaria o soltanto i sindacati e invece noi siamo per ascoltare tutta la comunità penitenziaria che è fatta di detenuti e detenenti. È la Costituzione il baluardo del nostro essere come garanti qui oggi, del nostro agire come autorità indipendenti e legittimati da leggi regionali e delibere di nomina comunale e provinciale. Come garanti abbiamo una connessione con il mondo del carcere, abbiamo uno sguardo intrusivo, rappresentiamo una complessità sociale, ascoltiamo storie e avvenimenti da diversi punti di vista e vi possiamo garantire che abbiamo ascoltato anche storie di persone innocenti. Negli ultimi 25 anni 31.000 italiani hanno ricevuto un risarcimento economico per un'ingiusta detenzione, non ne parla quasi mai nessuno. E chi paga se non la collettività, se non le singole storie di queste persone, le storie anche familiari? Noi vediamo il carcere con una serie di contraddizioni, chiediamo alla politica di analizzare, prevenire, intervenire. Per fare questo anche i numeri ci servono. Questi sono numeri ufficiali che vi diamo, che sono del DAP, che ci sono stati dati dall'Ufficio del Garante Nazionale. Mentre vi parliamo al 4 luglio, 8.341 persone in Italia hanno ricevuto una pena inflitta o hanno un residuo penal di sotto dei tre anni. Abbiamo detenuti che stanno scontando sei mesi di carcere, 1.337 di loro. Abbiamo detenuti che stanno scontando due anni, 2.562 di loro o da due a tre anni 4.442. Di queste persone di cui vi ho detto 8.341, solo un migliaio hanno dentro la loro contraddizione un articolo, il 4 bis che viene comunemente detto è un reato ostativo, ma ci sono molti magistrati che anche sulla ostatività di questo reato decidono anche per misure alternative. E mentre noi stiamo qui dati del 4 luglio, su 61.000 detenuti, 21.075 hanno un residuo pena di al di sotto dei tre anni. Cioè hanno scontato i loro 5 anni, 7 anni, 15 anni, 20 anni. 7.000 di loro hanno un residuo pena, 7.027, di appena un anno. Ecco, allora se veniamo al decreto carcere, è intitolato misure urgenti in materia penitenziaria per umanizzare il carcere. Con amarezza e grande preoccupazione della conferenza dei garanti, constatiamo la sostanziale indifferenza della politica. C'è per noi una sottovalutazione sia sul peggioramento delle condizioni di vivibilità nelle carceri, sia sul sovraffollamento, sul numero dei suicidi. Mentre stiamo qui oggi in giornata, in una riunione con i garanti regionali, l'ultimo suicido tra 56 e 57, se ci mettiamo anche quello di un CPR, è avvenuto a Venezia. C'è una contabilità che non indigna nessuno. Ecco, il numero delle persone che potrebbero andare in misure alternative, ve l'abbiamo detto, abbiamo tantissimi detenuti che escono e poi si vedono addirittura discutere la loro liberazione anticipata. È un decreto per noi minimale, inadeguato, vuoto, anche rispetto alle proporzioni dell'emergenza carcere. Quasi un uso fraudolento della decretazione di urgenza. Poi qui lo voglio dire, ogni tanto qualcuno si giustifica, ma non è una resa dello Stato, non è un condono, non è un indutto, ma in Italia dall'applicazione della Costituzione è avvenuto 14 volte fino al 2004 l'ultimo indutto che porta la firma cosiddetta di Mastella, ma ci vogliono i due terzi, Parlamento e Senato. Quindi pensate, solo le telefonate aumentano da 4 a 6 e poi, come vi dirà egregiamente il collega Anastasia, anche questa ci sembra una diminuzione innanzitutto per le donne, che vengo dall'esperienza delle donne deportate di Pozzuoli, causa problemi sismici, che a Pozzuoli, in applicazione di una legge nazionale, potevano telefonare ai figli tutti i giorni, spostate le 124 donne in 6 istituti campani, 5 a Perugia, 20 a Milano, 10 a Venezia, telefonano un giorno a settimana. È come se ci fosse un'alternanza, un'interpretazione soggettiva dei direttori. Tra le altre cose, la cosa che è un'alternanza, ma il direttore del carcere autonomamente le può aumentare. È come? Si avvilisce lui? È una questione burocratica. Potrebbe essere uno strumento molto ambiguo, quello di consentire a qualcuno una telefonata in più rispetto ad un altro. Non si parla mai dei suicidi, delle forme di autolesionismo, della mancanza di figure sociali, di ascolto come psicologi, assistenti sociali, psichiatri, mediatori linguistici. Tra i 57 che si sono suicidati, addirittura 5 di loro dopo 3 giorni di carcere, 10 dopo 15 giorni, moltissimi nei primi 6 mesi. È un buon gruppo, quando manca l'uscita del carcere, mancano 3 mesi, 6 mesi. È la solitudine di un carcere quando entri. È solo il primo giorno, vedi il medico, un educatore, lo psicologo. Poi rischi di vederlo dopo tanto tempo. È un appello che facciamo anche alle regioni, che devono fare la loro parte. Perché sono 15 anni che la sanità nei 190 istituti è sanità regionale. E come li curano i 17.000 tossicodipendenti? Un terzo denunciato dai familiari. E allora queste figure di sostegno possono essere non soltanto psicologi del DAP o ex articolo 80, ma psicologi delle regioni, delle ASRA, psichiatri. Quindi anche le regioni devono fare la propria parte. Nell'emergenza carceri c'era bisogno di misure deflattive del sovraffollamento, partendo dall'unica proposta in campo presentata dall'onorevole Giacchetti. Nel merito del decreto adesso interverranno i colleghi presenti a questo tavolo. Siamo quattro del coordinamento e due colleghi che sono garanti regionali, Doriano della Liguria, Stefano del Lazio. Sul primo punto aumento del personale sta scritto solo per la polizia penitenziaria. Sull'aumento delle telefonate, l'altro punto, sulle strutture residenziali per i detenuti tossicodipendenti, come le altre, non è immediatamente applicativa. Passano sei mesi per fare l'albo e gli altri sei mesi per indirizzare i detenuti tossicodipendenti. Poi ci sono le modifiche dell'Istituto della Liberazione Anticipata che potrebbe rappresentare solo apparentemente una semplificazione. Noi chiediamo soluzioni giuridiche immediate e chiediamo emendamente concreti a questo decreto che ad oggi è servito solo per qualche telefonata in più. Io mi fermo qui e do la parola ai colleghi presenti, iniziamo dalla professoressa Veronica Valente che è la garante di Parma. Io sono la garante comunale di Parma e ringrazio il portavoce della conferenza nazionale perché se noi oggi siamo qui è perché probabilmente ne abbiamo piene proprio le scatole, nel senso che vediamo ogni giorno un peggioramento delle condizioni delle carceri italiane dove quasi ogni giorno, se non due volte alla settimana, ci richiamo. E di fronte all'emanazione di questo decreto legge, misure urgenti in materia penitenziaria di giustizia civile, penale, di personale del Ministero della Giustizia, che il Ministro Nordio ha detto espressamente non essere un provvedimento svuota carcere ma un provvedimento volta ad umanizzare l'esecuzione della pena detentiva, francamente siamo rimasti molto perplessi. Molto perplessi perché di umanizzazione della pena non ne parla un decreto legge ma l'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale che ancora, ancora dal 1948, attende una piena attuazione. Secondo, perché questo decreto legge non va minimamente a migliorare la situazione degli istituti penitenziari. Non c'è o sono veramente poche le norme immediatamente attuative. Quindi significa che questa urgenza, necessità è solo sbandierata da questo esecutivo ma non percepita come concreta se nessuna norma di questo decreto legge può essere immediatamente applicata. Neanche le telefonate, perché queste sei telefonate che vengono previste da questo decreto legge possono essere garantite solo previa l'entrata in vigore di un regolamento. Quindi è proprio come se attuasse un gioco delle scatole cinesi. Quindi un rinvio. Così come, l'ha ricordato prima Samuele, anche l'elenco dell'albo delle strutture esterne, anche lì per essere attuate decorrerà del tempo perché innanzitutto bisognerà trovare un tavolo con la parte privata, con il rischio di una privatizzazione dell'esecuzione penale, con gli enti regionali e con gli enti locali. Per cui neanche questa norma è immediatamente attuativa. Riteniamo proprio per i numeri che ha poc'anzi dato il portavoce che l'unica misura che può dare un minimo di sollievo a questa situazione d'emergenza, come ricordato anche e ci teniamo a ribadirlo dal Presidente della Repubblica nel marzo scorso, emergenza carceraria, così ne parla Sergio Mattarella, è proprio il progetto di legge che fra due giorni sarà oggetto di un'ulteriore discussione. Perché? Perché si tratta di una misura già sperimentata in passato quando siamo stati condannati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per effetto del sovraffollamento e parlo del 2013. Secondo non è un indulto, quant'anche lo fosse la parola indulto è costituita nel nostro testo costituzionale e risponde ad un'esigenza umanitaria e soprattutto potrebbe dare un immediato sollievo a chi nel carcere si trova a vivere una condizione detentiva non degna di un Paese democratico. La prova è data anche dal regime delle telefonate, tu dicevi giustamente questo in attuazione, in attesa dell'entrata in vigore di questo modifica regolamentare il decreto legge attribuisce il potere al direttore dell'istituto di concedere ulteriori telefonate. Vi do una notizia, il direttore può concedere allo stato attuale già ulteriori telefonate per comprovate ragioni, quindi è una presa in giro questa disposizione, c'è poco da fare. Ci sarebbe un'unica cosa da fare, sperare che in sede di discussione della conversione del decreto legge si possa modificare questa norma e liberalizzare diciamo così il numero delle telefonate. Secondo noi ci stiamo battendo affinché si dia immediata attuazione a quanto detto dalla Corte Costituzionale in tema di affettività perché ricordiamolo già diciamo così nel gennaio scorso la Corte Costituzionale ha scritto una sentenza alla numero 10 del 2024 direttamente applicativa dando delle indicazioni ben precise per incentivare o comunque garantire il diritto all'affettività alle persone ristrette nelle diversi istituti garantendo la possibilità di avere colloqui intimi e riservati con i propri familiari. E parliamo anche di una modifica importante perché ci sono degli istituti penitenziari, io non so se qualcuno di voi è andato a vedere come avvengono i colloqui in carcere in queste sali enorme in alcune carcere le sedie e i tavoli sono bullonati al pavimento tale per cui un detenuto non si può minimamente avvicinare neanche al proprio familiare neanche per una carezza pur con la vigilanza pur sotto lo stretto controllo dell'agente di polizia penitenziaria. Pertanto questa, posso anticiparlo Samuele, è una delle prime iniziative che noi mettiamo in campo sperando che qualcuno ci ascolti proprio perché come ha detto Samuele i garanti insieme a chi quotidianamente entra in carcere sono in grado di fornire i dati reali delle condizioni degli istituti di pene in Italia. Grazie. Bruno Mellano, sempre del coordinamento che è anche il garante regionale del Piemonte. Brevissimamente per una considerazione. Come garanti, stamattina abbiamo fatto la riunione del forum dei garanti regionali, tutte le regioni hanno provveduto con propria legge istitutiva e anche una delle due province autonome a dotarsi della figura di garanzia di un garante. Sono segiamente preoccupati della situazione attuale e abbiamo concordato, come ha detto Samuele, una serie di iniziative a cominciare dalla richiesta accorata di un incontro col Ministro Nordio. Io sono stato protagonista il 10 agosto scorso della visita ispettiva che ha fatto il Ministro Nordio al carcere di Torino a seguito del suicidio di due donne nello stesso giro di pochi metri quadrati e di poche ore. E in quella sede, un anno fa, il Ministro prese alcune dichiarazioni, fece alcune dichiarazioni molto forti rispetto alle telefonate, rispetto alla necessità di interventi strutturali, rispetto alla necessità di trovare soluzioni alternative alla pena permettendo altri spazi per l'esecuzione penale. Il tempo ormai scarseggia e siamo seriamente preoccupati perché le tensioni stanno aumentando. Abbiamo visto in questi giorni e in queste ore l'aumento di quelle tensioni che giornalisticamente, forse in modo un po' frettoloso, vengono catalogate come rivolte, ma davvero invito tutti a cominciare da chi all'interno dell'amministrazione penitenziaria fa uscire queste notizie con queste forme molto colorite perché, se si va a vedere, sono in genere singoli episodi, episodi anche drammatici, episodi anche di violenza, ma che riguardano un numero ristretto di detenuti e spesso e volentieri sulla base di richieste, istanze, quesiti, attese di risposte, attese di decisioni del magistrato di sorveglianza, attese di decisioni da parte dell'amministrazione penitenziaria per trasferimenti, per avvicinamenti, per messi, per la liberazione anticipata che davvero meriterebbero un'altra attenzione, un'altra risposta. Le mancate risposte sono accanto al disagio reale e al numero sicuramente insufficiente di operatori, ma noi condividiamo l'analisi che ha fatto il capo del DAP quando ricevendo una delegazione dei garanti ha detto che mancavano mille educatori professionali, mille educatori professionali, quindi non possiamo essere contenti e soddisfatti che ci si dica che vengono assunti ulteriori agenti di polizia penitenziaria. È chiaro che è un modello vecchio quello dell'esecuzione penale nel nostro Paese che presuppone un controllo e una sicurezza che è sulla carta e lo vediamo tragicamente, i telefonini, la droga, le violenze interpersonali e poi le violenze anche con gli operatori che certo non possono essere risolte da qualche agente in più, forse da un mediatore, da un interprete, da un educatore, da una presa in carico e lo diceva Samuele con questo chiudo, una presa in carico che ha nella responsabilità di altri soggetti, oltre a quelli dell'amministrazione penitenziaria, a cominciare dalle nostre regioni in primo luogo, ma i territori, il privato sociale, il volontariato che possono davvero portare un contributo significativo per un'esecuzione penale diversa. Ma un'esecuzione penale diversa presuppone l'ascolto e in qualche modo la valutazione oggettiva delle condizioni attuali di esecuzione penale. Il fenomeno della tossicodipendenza in carcere, il fenomeno del disagio sociale, della marginalità sociale, della marginalità mentale, del disagio psichico dentro i nostri istituti caratterizzano davvero la vita nei nostri istituti, molto di più che il numero dei detenuti in 41 bis o i numeri dei detenuti in alta sicurezza. Noi abbiamo oltre 61.000 detenuti e mal contati abbiamo 10.000 persone afferenti ai circuiti di grande allarme sociale e di sicurezza. Tutti gli altri davvero sono quei poveri cristi di cui poi registriamo il suicidio. Magari a un mese dal fine pena, magari ad un mese dall'ingresso, magari nell'occasione di una telefonata, di una notizia, di un annuncio da parte dei familiari di qualche notizia tragica. E su questo davvero chiediamo a tutti di essere coerenti. Se, come ha detto il Ministro il 10 agosto dell'anno scorso, la questione delle telefonate può essere un valido strumento di intervento, occorre avere la forza di dirlo e di dirlo in modo chiaro perché io sono pronto a portare anche esempi e testimonianze. Noi spesso e volentieri troviamo chi detiene in carcere un telefonino non per coordinare la mafia, l'andrangheta, la camorra, ma per chiamare la fidanzata. E questo è il segno di un fallimento, di un paese che si dice attento alla famiglia, attento alle relazioni, attento al contesto che può permettere un recupero nel reinserimento. E quindi l'iniziativa della conferenza è un'iniziativa di presa di parola e personalmente aggiungo la mia parola che è indulto a amnistia. Sì, grazie Bruno. 30 secondi solo per darvi un altro dato. Noi parliamo delle forme di autolesionismo, sciopere e suicidi in carcere. Ma in Italia, mentre io vi sto parlando, stiamo qui, 132.000 persone sono nella cosiddetta area penale esterna. Nel 2000, in Italia, erano 3.000 che facevano affidamento, semilipperi, arresti domiciliari. Abbiamo avuto suicidi tra le persone, gli arresti domiciliari, perché hanno avuto gli arresti domiciliari e non il permesso di uscire dalle carceri. E anche lì mancano gli assistenti sociali. L'abbiamo chiesto adesso, a partire dalla mia regione, che ne abbiamo 23.000 all'esterno, abbiamo 70 assistenti sociali. Cioè non si lavora nemmeno a telefono con queste persone. Dulcis in fondo, 68.000 persone in Italia, forse qualcuno al Senato pure, non lo so, hanno una pena sospesa. Cioè hanno una condanna di primo grado al di sotto dei quattro anni, però sono incensurati. E noi poi abbiamo visto che in molti casi li vanno a prendere a casa anche se devono scontare tre mesi, un anno, un anno e mezzo. Come si organizza tutto questo mondo? Allora abbiamo bisogno non tanto di più carceri, abbiamo bisogno di utilizzare più pene alternative al carcere prima di venire in carcere. E poi abbiamo bisogno sostanzialmente di più figure sociali di ascolto. Valentina Calderona del coordinamento nazionale della conferenza dei garanti, che è la garante poi anche di Roma. Allora sì, buonasera, grazie. Allora vabbè, innanzitutto siamo qui perché questa è una delle ennesime iniziative che portiamo avanti dal 18 aprile, che è stata la prima scadenza dopo il discorso del Presidente della Repubblica, in cui appunto veniva espressa fortissima preoccupazione. Noi non possiamo dire nient'altro che quanto siamo profondamente delusi da questo provvedimento. Mi ricollego alle parole del collega Mellano quando parlava del termine rivolta e di come viene trattato anche dal punto di vista della stampa, tutto quello che accade e io vorrei ricordare che appunto l'utilizzo del proprio corpo in carcere è praticamente l'unico strumento di affermazione dei propri diritti, delle proprie questioni, è l'unico modo attraverso cui si può fare sentire la propria voce in situazioni in cui spesso le persone non vedono i direttori magari per mesi, in cui non c'è nessun'altra modalità per riuscire a dire le cose che succedono e allora in questo quadro, in un quadro in cui questo famigerato decreto carceri sull'umanizzazione delle carceri non parla di niente di tutto questo abbiamo dall'altra parte un provvedimento che è il disegno di legge ora in commissione sulla sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, nonché vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario in cui sarà possibile prevedere anche il reato di rivolta passiva. Quindi ogni modalità che le persone detenute oggi hanno, l'unico strumento che le persone detenute hanno di, diciamo così, far valere o provare a far valere i propri diritti verrà punito con pene fino agli otto anni. Questo, diciamo così, rientra in un quadro e altro che, come dire, l'idea di umanizzazione della pena e dobbiamo ricordare che, secondo me è molto importante dirlo, che questo quadro, questo quadro di sovraffollamento che a qualcuno, diciamo così, pare forse essere piovuto dal cielo, riguarda una cosa molto banale ma che ci dobbiamo dire, dobbiamo avere il coraggio di dire, i reati e i crimini sono quello che noi facciamo diventare reati e crimini. Troppo poco spesso, diciamo, in questa emergenza noi rischiamo, anche noi come garanti, quindi facciamo mea colpa anche noi, di marginalizzare tutto il discorso, per esempio, sulla giustizia minorile. Giustizia minorile che in questo momento è a collasso. Non succedeva da anni di avere il sovraffollamento anche all'interno degli istituti penali per minorenni e questo non è, diciamo così, come qualcuno ha detto, colpa di un'invasione, una supposta invasione o una quasi invasione dei minori stranieri non accompagnati. Questo è l'esplicita conseguenza di scelte ben determinate. Per esempio, una delle tante norme, ma veramente potremmo passare forse un quarto d'ora a elencare l'aumento dei reati, l'aumento delle sanzioni che sono state prodotte da varie leggi e vari decreti in quest'ultimo anno e mezzo, è per esempio l'arresto in flagranza per spaccio di lievi entità di sostanze stupefacenti. Legge sulle sostanze stupefacenti e legge sulla droga che è uno dei principali fattori criminogeni e di, diciamo così, aumento dell'elaborazione detenuta nel nostro paese. Allora queste cose dobbiamo dircele, dobbiamo dircele con molta chiarezza e, come dire, se ci diciamo queste cose non può che essere evidente quanto il nostro sconcerto e sconforto rispetto a questa decretazione d'urgenza. Peraltro decretazione d'urgenza che, diciamo così, dico solo altri due punti che a noi l'hanno lasciato particolarmente perplessi. Uno è questa supposta, diciamo così, facilitazione di tutti i procedimenti rispetto alla liberazione anticipata dei tribunali di sorveglianza. Non è chiaro dalla norma come questo avverrà. A noi sembra, da una prima lettura, ma speriamo di essere smentiti poi al fatto pratico e all'atto dell'applicazione da parte dei tribunali di sorveglianza su come, diciamo così, possa avvenire questo meccanismo di posticipazione in qualche modo da quello che capiamo della concessione e di inversione da parte dei tribunali di sorveglianza. Cioè non più obbligati a disporre e a comunicare l'accettazione del periodo di liberazione anticipata ma obbligati a comunicare l'eventuale rifiuto. In che tempi avverrà questo rifiuto? Rischiamo, e diciamo questa è un'ipotesi che noi facciamo, è una domanda che ci siamo posti e speriamo di avere delle risposte, le persone detenute rischiano di stare 4, 5, 6 anni senza aver avuto una risposta e scoprire solo dopo che alcuni semestri di liberazione anticipata non sono stati raggiunti, non sono stati conseguiti e non li vengono riconosciuti. Ecco questa probabile inversione psicologica, diciamo così, dell'onere anche da parte dei tribunali di sorveglianza a noi preoccupa molto e preoccupa molto proprio per la tenuta, diciamo così, psicologica che già, ed è anche del benessere della operazione detenuta che già è profondamente a rischio. L'ultima cosa, quella che poteva sembrare, diciamo così, nel momento in cui noi, sono mesi che lo diciamo, facciamo uscire quelle persone che stanno sotto i tre anni di pena, sotto i due anni di pena, troviamo dei modi di far uscire quelle persone. La critica che ci viene fatta e che viene fatta da anche rappresentanti del governo è che la loro intenzione è investire nella costruzione di percorsi di queste persone. Quindi se prendiamo, non so, erano 6.000 persone sotto gli 8 mesi dal fine pena, qualche mese fa, quindi più o meno saremo in questo ordine di idee, quindi non mandiamo fuori immediatamente queste 6.000 persone perché noi vogliamo costruire dei percorsi, perfetto, questo era lo strumento, no? Decretazione di urgenza per fare delle cose immediatamente per cui domani si potevano tirar fuori dal carcere 6.000 persone, ecco, questa cosa non esiste perché, come diceva la collega Valenti, in questo decreto non c'è niente di immediatamente applicabile, queste comunità, se mai arriveranno, non sappiamo di quanti posti stiamo parlando, parliamo di 500 posti, irrilevante, parliamo di 10.000? Forse potrebbero avere un effetto, ma che cosa sono destinate a diventare questi posti? Sono delle comunità? Quale sarà il percorso di accreditamento di queste comunità? Chi deciderà i criteri? Il rischio? Per come, diciamo così, si sta mettendo tutta questa questione che diventino dei piccoli istituti penitenziari? Sparsi sul territorio è molto forte, quindi, come dire, mi unisco, ovviamente, a quello che dicevano i colleghi e anch'io penso che, come dire, dire che prevedere eventuali sconti di pena è una, diciamo così, resa dello Stato, mi fa replicare che, diciamo così, considerare resa dello Stato una norma, un articolo della nostra Costituzione, un qualcosa che è inserito all'interno della nostra Costituzione, io credo che sia questo sì di una gravità istituzionale molto grande. Sì, mentre Valentina parlava, io stavo pensando a quello che stanno per fare in questi giorni, lo segnalo ai senatori presenti, che ringrazio, anche la Cucchi e anche il mitico Filippo Sensi. Questi stanno per aprire tre carceri per minorenni, Lecce, Santa Maria e Rovigo. Ora, mentre ve lo dico, dici, vabbè, ma quelli questi delinquenti, anche oggi, solo i 24 ore ci ha fatto notare che l'Italia è in aumento, ma insomma, se voi mettete nuovi reati o piccoli reati, li penalizzate, mettete in carcere e così, nel silenzio generale di tutti, utilizzando impropriamente il cosiddetto decreto caivano, decreto minori. Che hanno fatto questi signori? Vi stiamo per dare pure dei numeri. Allora, il direttore di un carcere, se un ragazzo annisi da Tairola, al Beccaria, va bene, a Roma, aggredisce un altro ragazzo, fa un'infrazione, va, è sottoposto alla commissione di disciplina, ha una sanzione, va in isolamento, fino adesso poteva essere spostato di carcere, lì sta scritto, il direttore propone di inviarla al carcere per adulti, ma noi dovremmo al Senato venire con la fascia al lutto, perché è l'ammissione, proprio sociale, sociale, di dire ah, tu fai un po' il delinquenduccio nel piccolo, ti manda all'università del crimine, non è successo niente. Ma potrei dirle altre, lei ha fatto riferimento alle tossicodipendenze, la storia dei minori, veramente, e allora anche qui, diciamo, come loro su questi tipi di politiche intervengono, nuovi carceri, per i minori, quest'uno di qualche giorno daranno questa notizia. Do la parola per gli ultimi interventi, Doriano Saracini, prego, collega garante regionale della Liguria. Buongiorno, grazie, e dunque cercherò di essere rapido, perché tante cose sono state dette, una prima cosa riguarda l'aumento dei giovani nelle carceri, degli adulti di cui stava parlando, credo che sia un tema importante, non dico altre parole sulle cause, ma dico, ad esempio, che nelle regioni del nord, in particolare in altre regioni, ormai, diciamo, i giovani sotto i 25 anni superano in molte regioni il 10%, abbiamo il 15% in Friuli, il 12% in Liguria, insomma, abbiamo cifre importanti, Lombardia. In queste regioni, soprattutto quando parliamo di giovani stranieri, c'è un forte bisogno di educatori e di mediatori culturali, mediatori linguistici e culturali, educatori che facciano anche i programmi di intervento mirati per agganciare queste persone. Troviamo molto importante il tema della scuola, ed è paradigmatico il fatto che l'istituzione penitenziaria, in molti casi non riconosca la legittimità dell'istituzione scolastica. Parliamo di amministrazione dello Stato e amministrazione dello Stato. Quando abbiamo, ad esempio, un regolamento, nell'ordinamento penitenziario, è previsto che prima del trasferimento di un detenuto occorra sentire anche gli insegnanti. E questa è una norma che viene costantemente disattesa. Quindi pensiamo ad un giovane che magari si riesce ad agganciare con un percorso scolastico all'interno di un istituto e che viene poi trasferito in un altro istituto e deve riniziare completamente da capo il suo percorso. Anche questa politica continua di trasferimenti è una politica deleteria. Innanzitutto perché serve soltanto a spostare i problemi da un calcio all'altro. Secondariamente diventa un modo con cui si cerca di gestire ma in realtà si rende ingestibile la situazione perché il detenuto che arriva in un nuovo carcere vive spesso questo trasferimento come punitivo, fatica molto a riadattarsi, deve ricostruire una rete di relazioni. Sappiamo tutti quando si arriva in un posto nuovo, anche se fosse solo che un posto di lavoro, le prime settimane sono dedicate a capire come funzionano le cose lì dentro. Le strutture informali, non quelle formali, perché quelle formali in qualche modo le decifri, ma quella informale è più complicato. Pensiamo a questo in un calcio. Un'altra cosa che volevo dire riguardo il tema delle strutture residenziali previste nel decreto legge, ho letto con stupore nella relazione che il finanziamento servirà a coprire 206 posti. In tutta Italia. L'unica misura che serve a determinare in qualche modo una diminuzione della popolazione carceraria prevede che a regime ci siano 206 posti, quindi una cosa che è completamente irrisoria e che corrisponde a meno della metà dell'aumento mensile della popolazione detenuta, prendendo a riferimento l'ultimo anno circa, perché abbiamo soltanto avuto un calo in quest'ultimo mese. Speriamo che sia confermata una tendenza quantomeno all'assestamento, perché se continua la crescita la situazione diventerà molto difficile. Vorrei predire una cosa, perché se giustamente detto prima non parliamo tanto di rivolte quanto piuttosto di proteste, parliamo di dialogo, perché quando noi diciamo che la situazione in carcere diventa invivibile, non intendiamo dire semplicemente perché c'è il rischio delle rivolte, diventa invivibile, perché il carico di sofferenza sulla persona detenuta è un carico che cresce, perché vivere l'isolamento in estate, in condizioni anche più difficili, aumenta la sofferenza delle persone e il fatto che non scoppi la protesta o la rivolta non rende comunque minore quel carico di sofferenza. Noi chiediamo che ci sia un segnale di attenzione da parte della politica, perché questo può dire tanto per le persone che sono in carcere. Noi sappiamo, per esperienza, perché capita a tutti noi di essere intervistati da qualche televisione, andare su qualche canale di informazione, che è seguito in carcere e quando incontriamo le persone che ci dicono ti ho visto in televisione, ti ho ascoltato, eccetera. Questo non ha cambiato di per sé la loro giornata, ma ha dato il segno di esistere. Diceva il direttore dell'istituto penale di Treviso a proposito delle proteste che c'erano state a Beccaria e delle spedizioni punitive seguenti, diceva che le persone che sono in carcere hanno bisogno di essere viste, di essere riconosciute. Ecco, questo è il nostro compito. Come garanti noi vogliamo vedere, ma vogliamo anche sottoporre alla vostra attenzione le persone che sono in carcere perché siano viste dalla nostra opinione pubblica e dalla politica che incarna, e lo dico in questo luogo alto, incarna la nostra collettività. Questo è il senso dello Stato che noi vogliamo incarnare. Grazie Doriano. Stefano Anastasia, il garante regionale per il Lazio. Sì, molto sinteticamente perché tante cose sono state dette e quindi non è necessario ripeterle. Io voglio soltanto dire questo. Siamo in una situazione che non ho difficoltà a definire senza precedenti per affollamento all'interno degli nostri istituti penitenziari che non è in questa misura da dieci anni, da quando c'era stata la sentenza della Corte Europea dei diritti umani contro l'Italia nel caso Torreggiani e quando avevamo 61.500 detenuti esattamente come oggi ma stavano calando perché era già stato adottato il decreto legge voluto dalla Ministra Cancellieri che fu il primo atto per rispondere ai rilievi della Corte Europea dei diritti umani. Oggi invece abbiamo lo stesso numero di detenuti di allora senza alcuna misura che vada in senso contrario e quindi dovendoci attendere realisticamente un ulteriore incremento della popolazione detenuta. E questo si accompagna oggi più che allora, più che dieci anni fa a importanti carenze di personale. Innanzitutto, lo rivendico io perché credo che dobbiamo sottrarci al gioco a cui qualcuno vuole costringerci di fare dentro il carcere una rappresentazione delle guardie dei ladri, quelli che stanno con le guardie e quelli che stanno con i ladri. Quindi i garanti detenuti stanno dalla parte dei ladri e non si preoccupano delle guardie. Non è così. Noi oggi abbiamo una condizione di carenza di personale, di personale di polizia penitenziaria che non c'era dieci anni fa e che oggi costringe alla interruzione di tutte le attività trattamentali dentro gli istituti di pena nel pomeriggio in quasi tutti gli istituti di pena, costringendo le persone detenute a stare chiuse dentro le proprie celle anche in virtù della cattiva applicazione di una discutibile circolare che fa sì che i detenuti che non hanno cose da fare devono stare in cella. Siccome cose da fare non ce ne sono e se anche il volontariato le vuole portare non lo può fare perché manca la polizia per farlo, il risultato è che i detenuti sono chiusi, chiusi nelle celle in queste condizioni di sovraffollamento. Da qui vengono le manifestazioni di disperazione, io le chiamo così, che sono i 56 o 57 suicidi che abbiamo registrato fino ad oggi e che erano generalmente il numero dei suicidi che si registravano alla fine dell'anno e che oggi invece abbiamo al 15 di luglio. E da qui vengono anche tante di quelle proteste che vediamo inscenate in questi giorni dentro le carceri che sono manifestazioni nella gran parte manifestazioni di disperazione di gente che in qualche modo nuoci a se stesso e al proprio percorso penitenziario perché subiranno procedimenti disciplinari, traduzioni, eccetera, eccetera, eccetera perché non ce la fanno più. Ecco allora, di fronte a tutto questo noi dobbiamo dire che 12 giorni fa abbiamo registrato in maniera clamorosa la sottovalutazione, la sottovalutazione, la inconsapevolezza del Governo e del Ministero della Giustizia. il decreto che è all'esame del Senato in questi giorni sta a indicare innanzitutto esattamente questo o non hanno capito niente o non gliene frega niente diciamo, diciamo, sì, nella maniera più sintetica possibile e però ogni giorno che passa noi vediamo una situazione sempre più chiave. Allora, siccome noi siamo quelli della seconda chance siamo quelli buoni e quindi noi la seconda chance la diamo anche al Governo. Ora ci sarà la fase di discussione degli emendamenti in Commissione Giustizia qui in Senato ci sarà il passaggio in aula e si andrà anche alla Camera dei Deputati su questo decreto legge. Ecco, allora, noi siamo per la seconda chance perché siamo buoni e speriamo che il Governo si ravveda prenda finalmente consapevolezza della gravità della situazione e faccia di questo decreto un decreto che serve a qualcosa a finire questa inutile strage. Grazie Stefano. Se tra i presenti, tra gli stessi senatori c'è qualcuno che vuole fare una domanda, un intervento noi siamo stracontenti anche tra i senatori. Ecco, grazie. Innanzitutto grazie perché state qui. Eh? Ilaria? Prego, Cecilia. Venite. Uno alla volta. Non sono in Commissione Giustizia quindi se la senatrice Cucchi vuole intervenire possiamo solo confermarvi che faremo di tutto per mettere qualcosa di utile in questo decreto e quindi faremo una battaglia emendativa e speriamo che questa battaglia emendativa dia una seconda chance. quindi sia ascoltata perché so che le audizioni sono state ascoltate e seguite anche dalla maggioranza e quindi speriamo e confidiamo comunque noi ci impegneremo per poter cambiare questo decreto. Grazie. Io veramente due parole ma ci tengo moltissimo per ringraziarvi. Voi sapete è inutile che ve lo dica io che oggi più che mai è importante il vostro lavoro siete le uniche figure di riferimento e sono consapevole che il vostro lavoro in questo momento è estremamente complicato perché poi è un lavoro che inevitabilmente finisce anche per prenderti dal punto di vista emotivo e non dico affezionarsi al detenuto ma affezionarsi a tutte le varie storie che poi cambiano le realtà cambiano le città ma alla fine i problemi sono sempre gli stessi. Io stessa ogni volta che ho un problema che mi viene segnalato mi rivolgo a turno ad uno di voi e quindi veramente a nome di tutti grazie per il vostro lavoro non stancatevi mai sono momenti difficilissimi ma noi contiamo su di voi. Grazie. Io volevo soltanto ringraziarvi io non mi sono mai occupato di questi temi sia nella mia breve esperienza parlamentare alla Camera e se in passato quindi sono avventizio e quello che ho scoperto capito no ma quello che ho scoperto visto grazie al vostro lavoro al lavoro di tutti voi per me è stato un'apocalisse e quindi io sono non solo determinato come ha detto Cecilia a fare tutto quello che è possibile anche quello che è meno possibile per cercare di come dire garantire un ravvedimento operoso che non vedo alle viste che non mi pare alle viste da parte di questa maggioranza però sicuramente ha come si dice con enfasi dare battaglia perché quello che ho visto e quello che non ho visto grazie ai vostri occhi grazie alle vostre voci al vostro lavoro è secondo me la cosa più importante che abbiamo di fronte come Parlamento come Senato nei prossimi mesi e nei prossimi anni quindi vi ringrazio grazie moltissimo grazie se non ci sono altri interventi noi siamo venuti a Roma con un pizzico di gioia abbiamo intitolato il diritto alla vita e alla speranza dei carcerati sapendo però che non è l'odio che vediamo ogni tanto sui social per chi entra in carcere non è il populismo mediatico che ci fa stare un po' male ma l'indifferenza e l'indifferenza su questi temi purtroppo è un proiettile silenzioso che uccide lentamente grazie grazie a tutti